Fai ste prati, è fatta, vi siete qualificate per il campionato europeo, come ci si sente? Ma benissimo, ce l'abbiamo fatta dopo la prima qualifica storica, adesso abbiamo confermato che facciamo parte delle migliori squadre europee e sono soddisfatta di questa squadra e del lavoro che ci abbiamo messo, anche se solo in tre settimane, però sono contentissima. Cosa significa questa qualificazione per te come giocatrice dopo questa stagione complicata a causa del Covid? Di sicuro ci sono stati tantissimi alti e bassi, una stagione insicura dove non si sapeva mai se si continua, sì o no. Sono contentissima che queste qualificazioni hanno finalmente potuto prendere luogo. E niente, mentalmente per me è tipo un capitolo chiuso adesso per la prima parte della stagione Covid. Più stasera, come avete fatto a resistire alla pressione? Ma penso che di pressione ce n'era, ma non come negli ultimi anni. Trovo che sapevamo cosa fare, sapevamo come batterle, che la missione era possibile quest'anno. e quindi c'era veramente felicità nel giocare, eravamo motivate, concentrate, quindi la pressione un po' non era troppo sulle nostre spalle. Questa è già la vostra seconda qualificazione, ti sembra diversa rispetto a due anni fa? Ma per la felicità trovo che l'altra volta era più inaspettata, abbiamo lavorato tanto, però fino all'ultimo non sapevamo se ce l'avremmo fatta. Quest'anno invece eravamo già più sicure di noi fin dal principio, quindi il sentimento è più soddisfazione che sorpresa, per così dire. Grazie mille.